Arriva una nuova top 11 del campionato di Lega Pro, ancora 4-3-3, ancora un trainer di un club campano, dopo padalino della Turris è il turno di Lello di Napoli del Giuliano, autentica sorpresa del torneo. Il poker alla Turris ha consacrati Tigrotti in queste prime 5 giornate. Tra i pari il giovane portiere del Monterosi Marco Alia, quello a Patirno è il secondo rigore parato in stagione, l'estremo difensore Scuola Lazio si dimostra reattivo e decisivo. In difesa c'è Manu Ricciardi dell'Avellino, a destra a Francioni, ha fornito una bella prova sfornando due assist che potevano essere decisivi a Russo prima e Casarini poi. La coppia centrale è costituita invece da Brosco del Pescara e da Ricci della Viterbese, che hanno concesso le briciole agli avanti di Foggia e Juve Stabbia. A sinistra a Poggello del Giuliano corre e macina a chilometro e partendo a Lombardi del derby contro i Corallini, bella scoperta. Centrocampo a tre, con la sostanza e imprevedibilità, con Emma Uso del Potenza decisivo contro il Crotone, lo stacco del calciatore dei Lucchiani di Siviglia permette di stoppare la capolista Viviani. Deriso del Monopoli invece dai là la vittoria del Veneziani contro il Cerignola nel derby pugliese. E' Gladstoni del Giuliano, già seconda presenza per lui nella top 11 e ormai certezza. Seconda presenza anche per Rocco Costantino in attacco, che con la doppietta di rigore alla Virtus Franca Villa, rilancia le ambizioni ai playoff del Monterosi di Menichini, affari di compagnia. Al centro il sempreverde Federico Piovaccari del Giuliano, in gol già tre volte, e Fabrizio Dellatina, giustiziere dei Lupi, che segna un gran bel gol di Lapina alla Pippo Enzaghi. E per lui si tratta del quarto centro stagionale.